Avevo chiesto se ci fosse qualcos'altro che dovevo sapere e lei ha detto no. Giusto? Sì, giusto. Non è stato tanto onesto, dottor Coyle. L'ho detto tutto. Tutto quanto? Lei ha prescritto un nuovo farmaco, uno che non avevo mai sentito. 1908 volte in sei mesi. Sono più prescrizione che pazienti e quasi il 5% della contea di Carroll. Ma sappiamo entrambi che quei pazienti non esistono e che lei ha messo in piedi una stupida, gigantesca truffa allo Stato. Allora, le avevo dato una chance. Ma ora le farò male. Ok, aspetti un momento, ok? Un momento. Dottor Coyle, che cosa sa dirmi dell'Oxycontin?